22 anni indietro nel tempo, quando giorni, anche anni, dopo l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, San Giuseppe Iato stava in silenzio e non parlava. Oggi non tutto, ma tanto, è cambiato. Dopo 779 giorni di prigionia, Di Matteo fu gettato in questo pozzo e sciolto nell'acido. Il papà Santino non si è fatto imbavagliare da Giovanni Brusca, che ha ottenuto l'ergastolo, decide di vendicarsi proprio sull'ormai quindicenne. 22 anni in avanti, le istituzioni e i cittadini si incontrano per dimostrare che non bisogna avere paura. E Giuseppe Di Matteo è un nome che non deve essere sussurrato, ma lasciato libero di andare da bocca a orecchio. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non siamo niente, senza responsabilità non meritiamo di esistere, che incarna un po' quello che per libera è la memoria, che non è fatta solo di parole, che non è fatta solo di gesti, ma è fatta di impegno quotidiano. Infatti la nostra presenza qui oggi non è una di quelle presenze che salta un anno, che salta un giorno. Noi siamo qui 365 giorni l'anno. Lui vive, la mafia ce l'ha tolto. Dobbiamo dare un ulteriore impulso, perché la mafia si deve sconfiggere, sarà sconfitta perché è soltanto un problema prettamente culturale. Grazie. 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 Grazie.